Riaprono oggi ufficialmente le terme di Caramanico. L'esclusivo complesso termale era chiuso da mesi e riesce a salvare per il rotto della cuffia la stagione estiva dopo aver già rinunciato all'introiti del periodo primaverile. Le terme avevano chiuso i battenti a causa dei guai finanziari di Società delle Terme S.p.A., società che le ha gestite per decenni e che si è poi scoperta gravemente indebitata. La questione per il momento sembrerebbe risolta e la società festeggia sul proprio profilo Facebook ringraziando la comunità di Caramanico per la vicinanza. Un sollievo per i circa 180 impiegati che erano rimasti senza lavoro dopo 30 anni di servizio, nonché per tutte le attività come ristoranti, alberghi e negozi dei paesi del comprensorio di cui le terme erano il fulcro dell'offerta turistica. Per il rilancio del complesso si sta pensando di sfruttare le sorgenti solfure e oligominerali che sgorgano dal cuore del Parco della Maiella a scopo riabilitativo. Per il momento le terme saranno aperte da lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 13.